musica 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 come funziona? allora mi dici serve Danilo? già funziona una, due e tre facciamo con Danilo che deve fare il messaggio ah ok, allora cosa vogliamo dire a Danilo? ma anche io se ce l'ho mandato non lo so, non sono bravo in queste cose quindi procedi tu allora grazie innanzitutto per l'invito perché siamo stati veramente non mi ricordo felicissimi di avere questo invito speriamo che questo traguardo anagrafico possa riservare tantissime gioie perché le meriti tutte, sei una zia meravigliosa e mi permetto di dirtelo perché abbiamo il bene più grande in comune e niente ti conosco da quando ero una bambina ti voglio tanto bene non so che aggiungere, tanti auguri ah 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 siamo arrivati eeeh io che ci faccio il mirna via cungia eeeh 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 tanto mi fa veramente i dorciglioli nella pancia come si suol dire perché non reagivi nonostante l'universo ti mandasse tanti segnali io ti ho supportato e poi ti ho lasciato andare perché sapevo che lasciandoti andare tu avresti voi iniziare a vedere l'importante è sempre vedere non è quello che senti solo ma è anche quello che vidi soprattutto quando sei a occhi chiuse ti auguro veramente ogni bene ogni bene tutto il bene di questo mondo tutto a te perché lo meriti veramente ecco non perdere mai la fide coro mio allora in che senso carissima andiamo bene panciulla artista buongiorno pescheria ecco vagabonda è in giro per il mondo sei a me e colomba di cui dirà anche lei no 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 ti facciamo gli auguri più belli più felici affinché tu possa realizzare tutti i tuoi sogni cara ciao devi venire nel box devi fare pure i tuoi auguri a Daniele hai guardato la telecamera là a me funziona? sì sì vabbò ma a parte che tu sei una fashion blogger no io sono stata la prima ma che la verità parte del naso presupposto l'hai anche buttata a livello commerciale che viene colpa influencer allora signori e signori la Chiara Ferragni di Terzigno la luparella eh 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 ma che sei a dire? ciao Daniela tanti tanti auguri lo sai quanto ti stimo e ti voglio bene sono sempre stata la tua prima fans perciò doppiamente auguri bacioni ciao ciao Dani allora guarda qua guarda qua che ti ha portato Antonella ho potevo i favorini eccoci qua buonasera questo è il nostro primo spritz esatto uno dei tanti ma che ce ne fa? allora ciao 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 fai schifo non conosco l'english ma non fa niente vai ancora più allora partiamo dal presupposto che ho bevuto tre spritz questo è solo il terzo però non vi preoccupate ne berrò qualche altro alla verità bevo già il terzo spritz non ho mangiato niente mi vado a mangiare love 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 già funziona vai andrà uno due attenzione annuncio importante ieri sera è scomparsa mia suocera amore Dani Daniela poi poi che gli devi dire? auguri auguri qua qua auguri auguri la zii vado a fare il secondo buonasera andiamo a fare il secondo giro ma che ce ne fa? ma non è forte è così mamma mia la zii io lo sapevo che arrivava questo momento la zii la zii mannaggia eh vabbè quando uno è forte è così è così è così quando uno è la zii è così auguri Dani andiamo a riempire tanti auguri Dani tanti auguri tanti auguri ciao cucinetta noi per sempre allora allora dal grande fratello ma possiamo già dire allora ciao da sera aspetta 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 Daniella 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 ma chi se ce l'ha mandato c'è Banu è il mio tesoro lei lo sa vero Dani ti auguro tanta tanta felicità e serenità va bene? . l'orso ma chi ce ne fa e l'orso ? che ti dice Che ti dici a zia Dani? Di qualcosa a zia Dani? Dicelo Ciao Zia Dani ti voglio tanto bene Dicelo Ma possiamo già dire Dani Ciao Auguri Allora Eravamo tutte più piccole quando ci siamo conosciute Adesso siamo diventate solo un po' più No adulte Mettiamola così ma con la stessa testa E soprattutto lo stesso rapporto di sempre Ti voglio bene Ma che sei a dirlo? Che emozione Di che faccio in birna via con già Se la ci Вы acostumate La patata sta bella Venga mi le dici è la mano come vuoi che bello stasera un bacio mai visto così bello non so perché doveva mezz'oloso però mi sono peggioroci eccolo qua ti ha già buttato un bacio bello signore allora ti auguro tanti di quei soldi tanto di quel sesso e tanto di quell'alcol un bacione teso ma chi fa ci vuole da fare che posso Daniela che la c'ha buttato questo è il senso di ciao tu lo sai quando tu stimi veramente qualcuno significa che nessuno ti mette le mani in testa perché il numero sta solo qua Daniela sei grande 20 anni fa li ho conosciuti io non li lascerò mai perché nessuno mi ha da toccato perché la mia testa è in mano a lui ma la mia faccia è in mano a lei mamma mia queste cigliacce finte grande Daniela sembra buona ma il numero fuoco ma quella lì non mi ha truccato non mi ha fatto i capelli stiamo scherzando allora eccoci siamo siamo solo all'inizio 1 2 3 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 4 4 5 3 4 5 4 6 6 7 7 8 9 10 10 10 1 10 11 10 31 23 32 32 32 33 35 Adesso mi sento brutta in questo video box Se vado con queste due belle ragazze Io devo ancora vedere Ancora non siamo pronte Non siamo pronte Allora ti siamo voluti Per salutare Ciao Daniela Sarso qua Avrai un ricordo almeno di queste salute Ah perché è venuto Vabbè Maria tutto bene? Buonissimo Ma andiamo bene Ma tutto bene com'è? Non è mai stata così bella la mia vita Anche io Non so se è buono Ma è molto bello Grazie Dani Allora Dani Non lo so ma sembra buono Brava mi piace tutto A pasta e fasù senza la salsiccia non mi piace Daniela Eh sì è bello che buono Daniela noi siamo qua fuori A un corone per cento anni E ti mettiamo due botte di tamoro E poi ci vediamo dentro Allora devi guardare questa telecamera qua Sì lo so però vogliono sapere che dobbiamo Fai schifo E che ne sacci che cazzo vorisci? No non direi Ti worker Tò si naturalE Non saio Tò si naturalE Non saio E godono scusa di finire scusa di capire se non ti sono capire se non ti sono capire ma non è normale che le regge lo sai ora tu fai la mamma, ma tu devi capire e fatti sempre schifo allora a nome di tutta la cittadinanza del signore e che comitato è il mento di mio e di tutte le associazioni di nazionale ma chi ce ne fa tantissime un compleanno auguri e sesso spritz il settimo ma che se ce l'ha mandato tanti auguri zia ciao zia tanti auguri è la zia più bella che hai siamo al quinto penso io ho perso il conto ciao Dani ti vogliamo tanto bene tanti auguri come stanno i capelli? bocchinar evviva la vita fai schifo ciao Dani allora sono molto imbarazzata voglio ringraziarti innanzitutto per questa bellissima serata è dire giusto qualcosa di essenziale quando si è in alto è facile avere tanti amici tante persone intorno che ti acclamano ma quando si è giù e ti giri e non trovi nessuno ti rendi conto poi di chi realmente sono le persone che ti stanno vicino nel mio momento no come dire sono tanti tutti noi abbiamo un momento no ma nel mio momento no nel mio momento più buio più triste quando mi sono girata ho solo incrociato i tuoi occhi e quindi grazie per tutto quello che hai fatto per me per mia figlia e ti voglio bene lo sai non ho bisogno di dire altro sei speciale hai un gran cuore e fortunato è chi ti incontra love ti amo tu devi fare un saluto alla nostra piccola Daniela più ciao ciao Daniela tanto piccola non è perché abbiamo il doppio dei miei anni in che senso? stai zitti stai qua sabato di venire da la riscia ti voglio bene ti voglio bene sei moreno a bacio è arrivata a terzini viste che è arrivato in due paesi mi è arrivata un bacio per la Daniela ciao Daniela ciao Dani oggi ho portato Alessia Alessia dei ragazzi aspetta lo posso dire per l'ultima volta a terzino vai vai Alessia del trial però proprio io però proprio io però proprio io ma che ce l'ho fatto comunque lei condimenti per mamma e papà per i polmoni che ti hanno fatto i miei grandi polmoni ormai sono molto fatti fai schifo ah madonna allora 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 vabbè ma io con Daniela posso dire di veramente averci lunga lunga stringi stringi auguri 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 che cosa dovrò dire dopo quindi meglio che ve lo dico prima ciao ecco qua se siete qui stasera è perché per me siete importanti e questo è chiaro grazie a tutti voi un bacio e dopo tornò più simpatico